Bene, finalmente è arrivato il momento di partire. Domani mattina svegli presto, direzione malpensa, check-in, sarà d'attesa e poi mi aspettano ore e ore e ore di viaggio. Tenuto conto dello scalo Dubai di 4 ore. Dicono che gli aerei della Fly Emirates sono molto confortevoli, questa sarà la mia prima volta con quella compagnia. Spero di riuscire a dormire sull'aereo anche se non credo che ci riuscirò, cioè perché io per dormire davvero ho bisogno che siano presenti una serie di condizioni che sono difficili da ottenere in un aereo, per quanto confortevole possa essere. Innanzitutto devo stare completamente sdraiato. Non mi sono mai addormentato, a parte quando ero proprio un neonato, da seduto o da semi sdraiato. Poi ci vuole buio totale, completamente buio, into the darkness, senza neanche il minimo spiraglio di luce e silenzio totale. Queste sono le mie condizioni per addormentarmi. Poi arriveremo a Manila verso le 4 e mezza, così è il programma e quindi pensate che se non dormirò in aereo dovrò stare svegli una cosa come quasi un giorno intero senza dormire, perché se arriverò lì le 4 e mezza di pomeriggio non è che posso andare a dormire ma devo aspettare che arrivi sera. Quindi si preannuncia un viaggio davvero faticoso. Ora vedete qua è tutto già pronto. Il computer portatile che userò per navigare su internet e per editare i video. Il raffreddatore per computer portatile che è un device che va attaccato sull'ingresso laterale, dove ci sono i fori per far uscire l'aria. Funziona come una sorta di ventola aggiuntiva, praticamente risucchia l'aria calda ed immette l'aria fredda e consente anche di monitorare la temperatura del computer. Poi userò ovviamente il mitico mouse ergonomico perché usando il trackpad non ce la farei a editare i video. Poi cosa abbiamo qua? L'immancabile block notice con la to-do list, i due power bank, quello principale da circa 11.000 mAh e quello di riserva che consente di fare una sola carica. L'immancabile ventilatore portatile che si può ovviamente piegare così e voi non potete sentirlo ma fa davvero una brezza molto piacente. Gli occhiali per il computer che penso porterò. La banconota da 500 peso che adesso ve la faccio vedere bene. Dimanda ang piso che vuol dire 500 pesos. Republican ang pilipinas. Come vedete hanno un aspetto un po' più vivace rispetto a quelli europei, confermato anche dalla presenza nel lato posteriore di due allegri pappagalli. Questi vargono circa 10 euro penso perché adesso poi il peso si è ulteriormente deprezzato. L'immancabile melatonina che spero mi aiuterà per combattere i jet lag, l'hard disk portatile, la doppia torcia indossabile, poi che altro c'è? Ovviamente lì c'è l'action cam, qui c'è una valigia, i cuscini da viaggio, l'astuccio per gli accessori dell'action cam, l'immancabile canottiera di vegeta, la mascherina per dormire che spero mi farà appisolare per un po'. Vediamo, o meglio non vediamo, e vedete lì una valigia, pesa circa 30 kg, è pesantissima, potrei usarla per fare le tirate al mento o per allenare i trapezzi nella sala d'attesa e contiene prevalentemente regali. Dato che ho tantissimi zii e cugini nelle Filippine, sono andato un giorno ad Arese e ho fatto heavy shopping per regalare qualcosa a tutti i miei familiari. Quindi ci sono vestiti, cappelli, articoli di abbigliamento, cianfrusaglie varie, articoli alimentari tipicamente italiani, tipo la pasta, l'olio d'oliva, tantissime tavolette di cioccolato, perché tutte queste cose nelle Filippine, essendo importate, costano molto di più. Ok ragazzi, anche se domani partirò, come dice la canzone dei Finley. Io non scioglierò il rapporto con questo canale, perché come già saprete farò dei vlogs per documentare un po' la vita nelle Filippine. Ora sicuramente non ne caricherò uno al giorno, assolutamente no, perché comunque devo spendere un po' di tempo con la mia famiglia, quindi non starò tutto il giorno a fare video. Sicuramente saranno brevi, perché lì la connessione è più lenta e non posso permettermi di fare video troppo lunghi, sempre che riesca a fare vlog, sempre che non ci siano impedimenti vari, tipo mi rubano un action cam il primo giorno, mi si abbatte un tifone in faccia, cose del genere. Quindi non posso dirvi nulla per quanto riguarda la frequenza dei video, ma se tutto va bene ci saranno dei vlogs. Quindi per ora io vi saluto, ci vediamo presto, invito a tutti voi, belli e brutti, likers e haters, quelli che mettono mi piace e quelli che mettono non mi piace, passo tardi, a seguirmi in questo viaggio. Grazie.